Eccoci qui mi trovo con nonna Marcella che è la nonna di Fabio Pellegrini del Grande Fraterno 13 sul web ormai è famosissima Sì, mi hanno detto ma io veramente non è che so proprio contenta per stare tutta sta pubblicità io non è che so, io sono la persona russiana, non è che voglio stare tanto in televisione Beh diciamo che alla fine il pubblico che sceglie e decide lei è già dalla prima puntata all'entrata di Fabio, mi ricordo c'è stata una grandissima simpatia, un grande calore per lei No, è stata una grande sorpresa anche per me perché io fino all'ultimo momento non sapevo nulla è stato tutto così improvvisato e cioè non è piaciuta la prima Ecco, adesso a breve ci sarà diciamo la finale, chi pensa che vince questa finale del Grande Fraterno e chi spera? Il mandacocco che mi fai? Non lo so, non lo so perché non riesco nemmeno a immaginarlo che se potranno inventare ancora, se ne sono inventate di tutti i colori, questa sarebbe proprio la fine Una simpatia che vogliamo dire al pubblico dei finalisti, chi ne sta simpatica? Io non voglio essere gigante perché giustamente per me vale soltanto Fabio Certo, certo Però, quelli che sono rimasti Certo posso parteciare per Angela Perché Angela se lo merita pure perché Florelli è stata una bella attrice perché là dentro senza un attore non ci diventare Eh, per forza, poi Fabio, perciò puro, lui è un amante degli sport estremi Sì, 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 sì Ha paura quando fa questi sport? Sì, sì, no, io non lo devo sapere Non lo deve sapere No, no, me lo deve far raccontare mia figlia magari Purtroppo non è anche in questo età di me niente Perché, che poi, niente Perciò, Fabio E la sua, la sua, la sua, la sua spontaneità Perché lui fa tutto il sport Non è che fa quanto uno E gli fa nel senso della parola Perché lui fa il Zub E lui fa la, eeeh E fa tanti Ma, sì, perciò io non lo so dire Perché non sono al corrente Perché mia figlia meno me lo dice E io meno me lo dice Ecco, perciò Cosa vogliamo dire a Fabio? Fabio Cosa dice la nonna? Ciao Ciao A Fabio Cosa diciamo Fabio? Vai avanti così che non ti sbagli La tua forza, la tua sincerità È tutto qui la vita Però alle volte magari Ma, non voglio tutto niente Ecco, perciò, ecco Abbiamo sentito la nonna Marcella Simpaticissima Grazie ancora E salutiamo tutti gli amici del web Salutiamo che Salutiamo tutti gli amici del web Salute a tutti Salute a Giuseppe Salute a Paolino A tutti gli utenti che sono su internet Dalla nonna Da nonna Marcella E da web Operatore E al social... Come si chiama? Nichi, Nichi Giusino All'operatore Nichi Giusino Nichi Tutti i ragazzi Ciao a tutti Mio nipote Fabio Che è un pirolo Ecco il fratello di Fabio Fabio Quadrate regia E' stato il suo manager E' stato il suo manager E' bello Che cosa gli è vostro Mi ha spiegato moltissimo A Fabio Sono due ragazzi stupendi Poi insomma Hanno la testa sulle spalle Ha un'attività Una presa Oggi come oggi È difficile trovare ragazzi Di questo genere Io spero che siano tutti così Ecco Questo è l'augurio Di nonna Marcella Un saluto a tutti Ciao Ciao